La Confapi Sardegna, che rappresenta circa 700 piccole e medie imprese associate, prende posizione sulla incertezza della situazione politica venuta a crearsi dopo il referendum. Mirko Murgia, presidente Confapi Sardegna, scrive in un comunicato «Alle imprese non interessa nulla del rimpasto né di giochi di palazzo. Le imprese vogliono una cosa sola, che la programmazione economica della Giunta regionale venga attuata fino in fondo e che le riforme annunciate sono in parte compiute e portino a effetti tangibili, soprattutto sul tema della semplificazione amministrativa. Che questo passi per assessori nuovi o vecchi, prosegue Murgia, è completamente indifferente per il sistema produttivo, il cui unico obiettivo sono il profitto, gli investimenti e lo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale già provato dalla crisi. Murgia precisa che il contributo alla realizzazione delle strategie della Regione non è mai mancato da parte dell'Associazione, che ha partecipato attivamente alla costruzione del piano energetico regionale, con particolare riguardo al modello di metallizzazione, alla stesura della legge di semplificazione, ai piani di rilancio dei territori. Leggiamo di esponenti politici che invocano più pregnanti politiche per il lavoro, scrive ancora Murgia, ma ricordiamo che il lavoro si crea nelle imprese e che quel profitto cui le imprese tendono è garanzia di continuità occupazionale e sviluppo economico del territorio. Noi temiamo che ricominciare da capo sulle politiche per la piccola e media industria sia deleterio. La crisi è stata lunga e fiaccante e adesso occorre aggrapparci a quel barlume di ripresa che si intravede nei dati macroeconomici. Occorre agire e non perdere altro tempo prezioso, conclude Murgia.